Ciao, sono Carlotta, ho 29 anni e vengo da Como. Corro da quando ho circa 10 anni, lo faccio per passione da una vita e è la cosa che più mi fa stare meglio. Al momento la distanza più lunga percorsa è di 30 km. Voglio correre la Maratona di Bologna per sfidarmi con me stessa e riscattarmi dai vari inciampi avuti nel mio percorso sportivo. Con Ivan sta andando molto bene, è molto esigente e pretende molto da noi, ma il risultato sarà sicuramente soddisfacente. Durante i miei allenamenti indosso sempre Macro Neoca, una qualità eccellente e un supporto costante. Il recupero con Dorelan è sicuramente tutta un'altra storia. Ragazzi, cosa aspettate? Ci vediamo il 31 ottobre alla prima edizione della Bologna Marathon. Ragazzi, 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 ragazzi Grazie.